bello a tutti siamo in questo nuovo video e ieri si è giocata roma cagliari si che è finita 1-0 e niente è non un po che non mi porto video ma purtroppo purtroppo cioè purtroppo con le partite la scorsa settimana non ho potuto vedere perché ho avuto un po di ci ho avuto un po da studiare quindi non potete vedere poi poi appunto non c'erano altri in mezzo di mano perché non c'era appunto e poi io volevo portare cioè poi giochi non c'è gente che sceglia penso che forse lo riporterò ma dipende anche da quanti noi cresciate e la partita l'ho seguita seguito tutto il secondo tempo il tempo solo qualcosa e non mi è tanto piaciuta poi il gol non so se non so se era valido appunto l'ho un po rivisto ma è dubbia la cosa comunque hanno utilizzato il VAR che è questo appunto nuovo metodo che utilizzano appunto per vedere le reazioni quindi è andata bene per noi purtroppo è arrivata al 94esimo 95esimo insomma giù lì e e purtroppo 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 è andata come è andata e scusate ecco qua e mi dicevo appunto è andata come è andata e vabbè però tanto tanto non tanto non ci importa scusate che mi metto gli occhiali ecco qua è andata come è andata e niente poi purtroppo però ti ha sbagliato i vigori quindi vabbè devo sbloccarla prima il gioco e chic non possono giocare insieme perché sia il gioco che chic giocano nello stesso ruolo quindi non puoi metterli non puoi metterli vicini noi devono capire che non abbiamo un ala non un ala destra quella che sarebbe un ala destra sì un ala destra perché sì abbiamo un dar ma un dar deve crescere ancora c'è tipo vent'anni sì vent'anni quindi non c'è non c'è non può giocare lui c'è non giocare un altro poi hanno comprato hanno comprato chic che chic deve essere il sostituto di c'è ecco poi di frel che è un altro attaccante poi c'è noi sulla sinistra abbiamo due abbiamo due ala siamo bene perché però ti e sharoni sono fortissimi però su però sull'ala sulla destra non possiamo avere tipo cioè vari giocatori che però non sono che però non sono buoni quindi secondo me è gennaio cioè secondo me dovremmo dare dei frel sì anche se voi non siete d'accordo dovremmo dare dei frel che non sta rendendo per niente bene ecco e comprarci un altro gioco oggi niente quindi spero che vi sia piaciuto questo video con tanti si può essere descrivevi e 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 Grazie.